Oggi 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, campagna di sensibilizzazione, con questo spot si spera di dare un grande messaggio e sensibilizzare questo tema molto importante che ancora purtroppo non si riesce a debellare. Come appunto dice lo spot, rispetto nel calcio e rispetto nella vita. Ah, ah!